Biaggi assaggia quello che c'è fuori dalla scia di Rossi e Melandri fa lo stesso con Biaggi e San Donato il protettore delle staccate aiuta Marco Melandri ad infilarne due che poi diventano uno che cosa ha fatto Melandri? Che cosa sta facendo Melandri? Melandri e Rossi e Biaggi insieme Melandri davanti a Rossi e Biaggi una staccata una staccata da applauso da lacrime agli occhi per Marco Melandri davanti a Rossi via di qua grazie torniamo in pista Rossi prova a rispondere Melandri Melandri fa tutto di traverso e mette un po' di traverso le cose anche a Rossi e a Biaggi aspettavamo Biaggi è arrivato un siluro di nome Melandri che in staccata li ha sverniciati entrambi e poi si è trovato a mal partito e ha infilato la prima S Luco Poggio Secco come fosse un corridoio dritto e li ha fulminati entrambi